Il tempo torna per questo festival dedicato al futuro e ai giovani, a un cantatore giovane, ma anche soprattutto all'università di Manasso. Sì, devo dire che stiamo facendo un lavoro molto curioso, che culmina in questo New York Future Festival, proprio presentando la musica di oggi, non tanto di domani, perché in realtà insomma i cantautori come dentro spanno un percorso più che decennale e siamo molto contenti che come in un ambito come quello dell'università si possa in qualche modo riaggiornare i conti con la musica italiana. Dante è un cantautore davvero unico, perché ha una capacità di scrittura davvero mirabile e c'è tutta una generazione che passa poi per Bruno Mori, SAS e lo stesso Mocca che abbiamo fatto in università. Insomma stiamo usando questo percorso appunto per aggiornarci, per guardare al futuro, ma a partire da altri esempi, e credo che stiamo a essere la unica, perché è dente fermo e quindi ha creato per noi questa sera la parola, che è una breve voce solo, quindi sono un'opportunità davvero interessante per portare un contributo a questa bella iniziativa di un'università. Grazie.